Anna Sarfatti, il galletto maciste, Giunti Junior Nella fattoria di Frittole nacque il vitellino Pasquino. Tutti gli animali vollero fargli festa e andarono alla stalla con un regalo. «Prendi questo sacco di paglia», disse Rina la cavalla, «così il tuo letto sarà morbido e caldo». «Ti ho portato un secchiello pieno di mele raccolte sotto l'albero che ti faranno venire i denti grandi e forti», gli disse il porcellino Billi. «Questa è una carota che ti toglierà la sete quando fa molto caldo», gli disse la coniglietta Bea. «Io ti regalo il mio campanaccio, così ti potremo ritrovare se ti perdi nel prato», gli disse la pecora Rosina. Il galletto maciste, scorbutico e prepotente, ascoltò gli altri animali e poi disse «E' facile per gli altri fare generosi, tanto a loro col tuo arrivo non cambia proprio nulla». «Mentre a me da ora in poi toccherà lavorare di più, perché ogni mattina dovrò svegliare anche te e per questo io non ti regalo nulla». Fuori dalla stalla la cavallarina disse a maciste «Non è bello quello che hai detto e poi cosa ti cambia svegliarne uno in più? Sai che ti dico? Un giorno avrai bisogno di lui». E maciste per tutta risposta starnazzò «Con la mia voce che vale più di un gioiello non avrò mai bisogno di un vitello». «E tornò ritto sul covone, lui che si dava aie da padrone». Passò qualche tempo, Pasquino cresceva, era gentile con tutti e tutti gli volevano molto bene. Un giorno venne un forte temporale. Il gallo maciste, che si sentiva forte come una roccia e pensava di poter far cadere addosso tutta l'acqua del cielo senza ammalarsi, non si mosse dal covone. E così si buscò un forte raffreddore. Invece di fare chicchirichi, a mezzogiorno cominciò a starnutire e a fare ecci, ecci, ecci. Nel pomeriggio gli venne la febbre gallocina. La sera le penne gli diventarono gialle e cominciarono a cadere. «Com'era brutto tutto spennacchiato!» E la mattina seguente si accorse con terrore che aveva perso la sua preziosa voce, tanto che non riuscì a fare il suo chicchirichi. Gli animali della fattoria, svegliandosi tardi, rimasero indietro col lavoro. La prima ad accorgersi del silenzio furina la cavalla. Pensando che gli fosse successo qualcosa, corse da lui e lo trovò ridotto in quello stato. Allora galoppò fino alla casa del veterinario, portando con sé una penna del malato per farsi dare la cura. Il medico non ebbe dubbi. Per la febbre gallocina occorreva far riposare il gallo al caldo. «Almeno per una settimana, mi raccomando, che sia un posto molto caldo!» consigliò al veterinario. Rina tornò al galoppo in fattoria, parlò con gli animali e tutti insieme decisero di portare Maciste nella calda stalla accanto a Gemma e Pasquino. «E ora chi li avrebbe svegliati?» Rina si ricordò del campanaccio. «Pasquino!» gli chiese. «Te la senti di svegliarci col campanaccio per questa settimana?» «Certo!» rispose contento Pasquino. «Per me è un onore e un divertimento!» E così fecero. Per tutta la settimana Pasquino si prese cura di Maciste insieme a Gemma e fece da sveglia agli altri animali. Pian piano, grazie alle cure, Maciste guarì, ma la voce di cui andava tanto fiero non tornò come prima. Gli restò una vocina fioca e roca che si sentiva malapena da qui a lì. Fu allora che al vitello Pasquino venne un'idea. Aiutato da Rina, appese con un lungo spago a un ramo del ciliegio il suo campanaccio, che scendeva giù proprio all'altezza del becco di Maciste. Così, con un semplice colpo di becco, il gallo poteva suonarlo. Commosso dall'affetto e dalle attenzioni di Pasquino e degli altri animali, Maciste non fu più scorbutico e prepotente. Diventò famoso come gallo campanaro e scoprì che grazie al campanello un amico vale più di un gioiello. Anche per stasera, luoghi di fiabe, vi augura la buonanotte. A presto!